sul mediterraneo centro occidentale va rinforzandosi un campo di alta pressione il quale nel corso di questo fine settimana riceverà un contributo in quota dal nord africa sulla nostra regione si instaureranno così condizioni di stabilità tuttavia va ricordato che nei mesi autunnali ed invernali la presenza dell'alta pressione determina un maggiore accumulo di umidità nei bassi strati per cui sulle pianure nelle vallate avremo la formazione di dense foschie e banchi di nebbia durante le ore notturne e dal primo mattino ma ecco in dettaglio il tempo previsto nei prossimi giorni per sabato 31 e domenica primo novembre avremo condizione di cielo poco nuvoloso per l'intera giornata a parte la formazione di nubi basse al primo mattino lungo la costa e dense foschie e locali banchi di nebbia durante la notte sulle pianure vallate interne temperature in aumento nei valori massimi stazionarie o in lieve calo le minime della notte segnatamente nelle aree vallive venti deboli settentrionali e mare calmo o quasi calmo l'alta pressione continuerà a dominare anche nei primi giorni della prossima settimana almeno fino a mercoledì 4 novembre garantendo condizioni di tempo discreto su tutto il territorio regionale con poche variazioni sotto il profilo termico per maggiori dettagli invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it per il meteo è tutto un buon fine settimana da Giuseppe Stabile